buongiorno da cucina più evolutiva oggi prepareremo una bevanda crudista dal gusto liquoroso grazie a un connubio di ingredienti che riecheggiano un noto liquore al cioccolato passiamo subito alla preparazione frulliamo due tazze di latte di mandorla 250 grammi di carote 2 cucchiai di burro di cocco 50 grammi di amarene reidratate 50 grammi di uva passita reidratata 40 grammi di farina di carrube un cucchiaio abbondante di anice in polvere 4 cucchiai di sciroppo di mela estratto a freddo passiamo ora il frullato all'estrattore versandolo lentamente nell'imboccatura per la riuscita della bevanda dobbiamo ottenere un liquido cremoso senza fibre quindi questo passaggio all'estrattore è fondamentale il bellissimo di cbe è pronto pronto per far stupire voi e i vostri ospiti guardate che densità proprio da liquore impossibile poi non farsi avvolgere dal suo aroma inebriante buona cucina più evolutiva a tutti e alla prossima video ricetta ciao 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 ciao